Benvenuti a questo incontro. Vi ringrazio particolarmente perché oggi è domenica e quindi dedicare una giornata a questo incontro suppongo che sia stato per voi una scelta. Quindi cercheremo di gratificare questa vostra scelta. Io per iniziare vi leggerei un piccolo brano che ci fa entrare un pochettino nella tematica di oggi. La comunicazione della diagnosi di una malattia grave induce sempre una reazione di sconforto e paura. Sentimenti contrastanti subentrano successivamente. Rendere noto lo stato delle cose alle persone care, agli amici, ai colleghi di lavoro oppure tenerlo nascosto. Spesso riaffiorano sensi di colpa dal passato, chi non ne ha, che vengono messi in relazione causale con la malattia. Per molti la comunicazione della diagnosi di una grave malattia trasforma quell'esperienza di malessere indistinto, che non è ancora chiaro, fatto di specifici sintomi sgradevoli, di vaga indisposizione oppure di vero e proprio dolore, nella malattia. Con la diagnosi la situazione ha un nome ben definito e talvolta terrificante. La presa di consapevolezza della malattia diviene l'evento in sé, con il suo carico drammatico anche se nulla aggiunge alla situazione vissuta fino a quel momento. Ben conoscono questa tematica gli operatori del settore medico, che maneggiano quotidianamente analoghi vissuti e motivi dei pazienti, ai quali sono costretti a somministrare sentenze diagnostiche talvolta esiziali, dovendo destreggiarsi nel contempo tra umana compassione ed esigenze di protocollo. Alla richiesta di dettagli sulla prognosi, quando si tratti di malattia grave, la situazione sprofonda rovinosamente nell'abisso. La paura adesso assume delle ragioni oggettive che la giustificano pienamente. Subentrano allora senso di solitudine, senso di fallimento nei confronti delle persone care e soprattutto di se stessi. Come faranno i miei cari senza di me? Inizia allora un logorio interiore alla ricerca di una ragione, perché proprio a me? Forse me la sono meritata? Per nulla consolatoria, del resto appare la constatazione che a molti altri è toccata la stessa sorte. Vorremmo intensamente che le cose non stessero così come invece stanno. La realtà però non si piega facilmente ai nostri desideri, soprattutto quando è tragica. Allora gli unici punti di riferimento rimangono i medici, la scienza. Quella stessa scienza che ci ha appena condannato con una prognosi statistica di fronte alla quale la volontà, non dico di guarire, ma almeno di cavarsela, si affievolisce. Che diritto io di far parte di quella piccola cerchia di fortunati che se la cavano nonostante una prognosi statisticamente in fausta. I sani di fronte a queste tematiche per lo più fuggono. Sono problemi che non li riguardano e sperano che non li riguarderanno mai. E non vogliono nemmeno sentirne parlare talvolta per paura di venirne coinvolti, contagiati, per mettere molta distanza tra loro e quella sensazione di paura e disperazione. Già, talvolta è disperazione. Ebbene, però, qualcosa di inaspettato può esserci. Un evento reale, non il semplice desiderio di qualcosa che si infrange contro la freddezza matematica delle statistiche di sopravvivenza. Vi sono delle persone che hanno avuto analoga esperienze di malattie considerate gravi e inguaribili che invece ce l'hanno fatta. Contro la più improbabile delle scommesse. Caso, fortuna, forse, errore diagnostico, efficacia delle cure. Ognuno dei testimoni guariti che racconteranno la loro esperienza durante la giornata dei guariti ha elaborato una personale strategia. Sentiremo da loro in che cosa si è consistita. Non c'è nulla di parascientifico, nulla di miracoloso. Semplicemente è un'esperienza andata a buon fine. I commenti e le valutazioni dei numerosi medici che intervallano all'incontro cercheranno di rendere plausibili quelle esperienze che sono reali. Allora, vale la pena, cari ospiti, di ascoltare quelle testimonianze. Non solo per i malati, ma anche per i provvisoriamente sani. Quindi lasciamoci contagiare da loro, lasciamoci contagiare per una volta dalla salute e non dalla malattia. Ecco, questa è una premessa a che cosa faremo. Adesso però parliamo di festa. Oggi è una giornata di festa, di riconoscimento, di congratulazioni con le persone che hanno avuto un'esperienza drammatica e che oggi vengono qui a condividerla con noi. Perché questo? Perché l'essenso dell'organismo biologico è quello di stare in salute. La malattia, quella che chiamiamo la malattia, adesso fra poco non lo useremo più questo termine. Ecco, vedremo perché. Questa disarmonia talvolta subentra, ma è un che di innaturale, è un qualche cosa di contronatura. Questo lo dico con forza perché non dobbiamo assolutamente lasciarci affascinare da quella attrazione talvolta forte che viene dal considerare il dolore e la sofferenza come una sorta di elevazione. È una cosa che bisogna rifuggire e come? Non soltanto con la volontà, non soltanto con la speranza, ma con il fatto, con la fiducia. Ecco perché oggi delle persone vengono a testimoniare un dato di fatto. Questo ci deve rinforzare nel fatto di sentirsi a proprio agio quando stiamo bene. Non è un dono, è la nostra condizione normale, la nostra condizione naturale. Il lavoro che stiamo facendo serve appunto a questo. Le persone che parleranno oggi, le persone in una vita, hanno dovuto scalare le montagne. Il nostro lavoro è questo. Quando la coscienza collettiva comprenderà che le cose potrebbero essere completamente diverse e molto meglio, allora sarà più semplice. Sarà più semplice stare bene, sarà più semplice guarire. E sarà evidente anche che esiste una categoria importantissima di persone che sono i portatori e le portatrici sane di situazioni considerate gravi o gravissime o inguaribili. E ce ne sono tante, sia attuali sia che lo sono state, ma che da anni, anni e anni stanno bene. Ecco, quindi con questo vorrei anche presentarvi chi è, diciamo, l'artefice di questa iniziativa. L'iniziativa è organizzata da un'associazione culturale che è l'associazione salutaria che ha delle finalità appunto di promuovere la salute, la guarigione, la gioia di vivere e soprattutto anche di raccogliere queste testimonianze, questi eventi, questi fatti positivi che aiutano gli altri, aiutano tutti noi, aiutano in ogni momento come un dato di fatto, un punto di appoggio forte che ci rinforzi nell'idea che la nostra condizione è quella della salute. Chiariremo, non è che siamo indifferenti agli eventi naturali e agli eventi della vita che talvolta portano alla disarmonia. E vedremo come, dalle testimonianze dei guariti e dalla interpretazione che di questo poi daranno i numerosi medici che sono qui in sala, che interverranno nella giornata di oggi, di rendere comprensibile, plausibile quello che ci raccontano i guariti. Io presenterei, Sergio sei d'accordo, ecco, la giornata sarà un pochettino un gioco a quattro mani, con Sergio Signori. Sergio Signori lo conoscete per la gran parte di voi. Scusate, la videata che vedete adesso, la cosa importante è quello che è scritto sotto il sito dei guariti che abbiamo costituito appositamente per raccogliere quante più guarigioni possibile. Perché qualcuno ha detto che le guarigioni sono poche. Io quando farò poi la mia relazione vi presenterò dei libri in cui ce ne sono migliaia. Quindi noi ci colleghiamo a queste migliaia di persone guarite. E il lavoro che ho fatto io ha fatto sì che la maggior parte delle persone guarite siano nel circondario, con una punta ad Asti e una a Cagliari, ma sono quasi tutte persone del Vicentino e del Nord-Est. Ma perché questo lavoro non lo fa nessuno? Se lo facessero in altre zone d'Italia verrebbe fuori la stessa cosa. Quindi abbiamo... Grazie. Grazie. E si stanno già creando delle reti di persone per fare questo. Persone qui presenti che hanno reti, associazioni, e sono intenzionate a continuare questo lavoro. Quindi ciò premesso, abbiamo appunto costituito il sito Noi Siamo Guariti. In questo sito ci sono 42 medici a sostegno, 43. Sono dentro un 45 testimonianze di guarigione, se ne stanno aggiungendo. Sono in attesa di altre vicende. E quindi aiutateci a diffondere questo messaggio di vita. Ecco, un'altra precisazione preliminare, importante, grazie Sergio, è questa. Qualche giorno prima dell'evento siamo stati convocati per delle interviste con i media locali. Tra l'altro questa iniziativa ha avuto una discreta eco-mediatica. e si cercava a tutti i costi di trovare una contrapposizione tra quello che è la medicina istituzionale e la testimonianza dei guariti, come se fossero due categorie che vanno in direzioni opposte. Io devo ringraziare veramente di cuore tutti i medici che sono qui, quelli che interverranno, perché sono venuti qui correndo questo rischio. È un rischio che non esiste, nel senso che la loro funzione, la loro opera è quella indirizzata alla salute. È ovvio che durante il rapporto tra medico e persona abbiamo una dialettica. Questa può essere migliorata, questa può essere emendata. Ci sono delle spinte che vengono proprio dai beneficiari, da noi. Ecco, non dimentichiamo che anche i medici sono persone, e quindi anche loro talvolta passano dall'altra parte e è interessante poi sentire la loro esperienza in questa doppia veste. Quindi non c'è una contrapposizione. Noi siamo per un nuovo contratto tra la persona e il medico che sia partecipe da tutte e due le parti con una distribuzione delle responsabilità. Il medico ha un protocollo da seguire, è spesso tenuto nell'angolo da protocolli, linee guida, minaccia di malpractice. E questi sono degli aspetti che vanno tenuti in considerazione. Nonostante questo, i medici mettono a disposizione la loro grande passione, il loro grande amore per la medicina. Ecco, le persone da ringraziare sarebbero tante. Innanzitutto le persone guarite, perché senza di voi non potremmo fare niente. I ringraziamenti vanno agli sponsor di questa iniziativa, che sono Acqualissa, poi faremo vedere un piccolo filmatino, e l'associazione Salutaria, ovviamente dell'EPI Network. Salutaria è anche il nome di una trasmissione televisiva che va in onda su TVA tutti i venerdì, dalle 17.30 alle 18.00. In questa trasmissione che conduco ho avuto il piacere e l'onore di avere molti esperti come ospiti e che hanno illustrato, lumeggiato alcune condizioni del benessere e della salute. Nella tavola rotonda che faremo dopo con i relatori parleremo di che cosa significhi individuare e delineare una medicina della salute e non una medicina della malattia. Io passerei, se sei d'accordo Sergio, a presentare i guariti e i medici che sono qui, ecco, con la loro autorizzazione mi pregio di dare il benvenuto caloroso e un forte abbraccio alle persone guarite che posso elencare. C'è qui Rita Belforti che sarà anche una relatrice, grazie. Nicola Bignardi, portatore da vent'anni di linfoma nonodgkin con prognosi in fausta dopo trapianto di midollo. Francesco Carollo che sarà anche un relatore guarito trent'anni fa da linfoma ad elevato grado di malignità con prognosi di sei mesi. Maria Ciscato, guarita otto anni fa da carcinoma mammario. Cristina Comellini, presidente dell'associazione Tecum di Cremona guarita dieci anni fa da carcinoma mammario. Raffaella Dalsasso, guarita trent'otto anni fa dall'eucemia acuta fulminante. Lei sarà una delle relatrici. E oggi con te gli anni... Cristina Diana, guarita dieci anni fa da carcinoma mammario. Maria Rosa Di Giorgio, guarita trent'anni fa da sarcoma al collo. Rita Galeone, guarita diciotto anni fa da carcinoma mammario. Sarà relatrice. Maria Berica Grillo, guarita anni fa da infezioni ricorrenti, di allergie e altri disturbi, cambiando posto al letto in cui dormiva. Ecco, su questo si tornerà durante la giornata. E' uno dei fattori importanti e conosciuti. Luciana Ibello, guarita ventitré anni fa da carcinoma mammario. Chiara Lombardo, guarita da tiroidite di Hashimoto, malattia ritenuta inguaribile. Anna Magaraggia, guarita otto anni fa da carcinoma mammario. Miriam Meldolesi, guarita otto anni fa da carcinoma mammario. Gabriella Paganotto, guarita sette anni fa da carcinoma indifferenziato del rinofaringe con metastasi polmonare. Carmen Rapetta, guarita ventisette anni fa da carcinoma ovarico. Cosima Tasso, portatrice sana di melanoma. Sarà una delle relatrici. Antonella Carmen, preferisce restare anonima, guarita nove anni fa da deperimento organico con ipotrofia dell'ipotesi, dell'ipofisi giudicata inguaribile. Ecco, verrà raccontata la sua storia. Io ringrazio veramente loro. Ci vuole molto coraggio e spirito anche di altruismo per venire qui e portare la loro testimonianza. E quindi, ecco, oltre alla felicitazione e alle congratulazioni per la loro esperienza, li stringiamo tutti con un forte abbraccio. Grazie. Quindi, a parte i medici, i relatori che ci aiuteranno a considerare, a valutare questi aspetti, quando dico medici, scusate, non me ne vogliano, parlo di tutti gli operatori che sono i cosiddetti caregivers, come li chiama il professor Palmieri. Quindi comprendiamo i psicologi, tutti gli operatori sanitari, come osteopati, come fisioterapisti, ecco, tutto questo mondo, coloro che si prendono, i counselor assolutamente. Di questi medici che non saranno relatori, che però sono qui, che ci sostengono, ecco, mi piace citarli perché sono un forte supporto a quello che vogliamo fare. E quindi c'è Paolo Albanese, che è geriatra ospedaliero a Dolo, Vincenzo Balestra, dirigente SERD del Servizio Dipendenze di Vicenza, Laura Barnabò, anestesista a Vicenza, Sergio Belforti, medicina integrata, nutrizionista a Milano, Daniele Bernardini, gastroenterologo, già dirigente della gastroenterologia di Vicenza, Loredana Bozzola, anatomopatologa di Vicenza, componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Vicenza, Roberto Bressan del SERD, Servizio Dipendenze di Vicenza, Luca Brunelli, psichiatra di Vicenza, Arrigo Dianin, medico di medicina integrata a Creazzo e Verona, Roberta Fedele, endocrinologa e scienza dell'alimentazione, medico di famiglia a Vicenza, Giuseppe Gheno, internista e cardiologo, già primario ospedaliero a Bassano ed Asiago, Carla Giardino, medico di base di Villa Verla, Folker, Folke, Gospel, neofrologo ospedaliero di Vicenza, perdonate la pronuncia, Rolando Negrin, dirigente LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori di Vicenza, Raimondo Pische, medico odontoiatra di Chioggia, Andrea Rosali, medico di medicina integrata di Vicenza, Ubaldo Rossati, chirurgo, chirurgo generale a Vicenza, ci sono anche degli odontoiatri come il sottoscritto Pasquale Andriuzzi, Andrea Labella, un altro medico è la dottoressa Maria Lisa Truccolo, medico specialista in chirurgia plastica, tra i medici veterinari perché la tematica della salute riguarda anche loro da vicino, non soltanto per la salute degli animali ma per quella che di riflesso la salute degli animali portano a noi. E quindi Sara Faggin, vicepresidente dell'Ordine dei Veterinari di Vicenza, Mario Zaccaria, esperto in geobiologia di Piazzola di Brenta. Scusate se per sbaglio non abbiamo citato qualcuno, ecco, no, una citazione la devo fare necessariamente perché questo allarga poi il gruppo dei caregivers anche ai biologi nutrizionisti e qui mi pregio di avere come ospite il dottor Maurizio Sardo. Allora, questa era un pochettino la premessa di quello che faremo oggi. È una giornata piena, ci saranno molti interventi, quindi ecco, chiederemo a tutti i relatori di attenersi un pochettino ai tempi concessi loro dalla scaletta. E quindi a questo punto direi di dare inizio alla tavola rotonda. Andiamo a cominciare. Ecco, e quindi chiederei di venire qui sul palco i relatori della tavola rotonda. Il professor Beniamino Palmieri è un cattedratico, è un chirurgo, un anatomopatologo, ha moltissime specialità, è un uomo che ha dedicato, che sta dedicando la sua vita alla medicina, alla ricerca, con un'apertura a 360 gradi. Ecco, lui è un medico istituzionale, ma è un grande ricercatore, il quale, per esempio, ha organizzato, tra le varie cose, un bellissimo congresso di oncologia integrata, al quale ho partecipato, con una presenza non soltanto di medici, ma di tutto quello che può portare salute, benessere e sollievo. Lui è il fondatore di due associazioni, una è il secondo parere in medicina, che si occupa, poi magari lui ce lo spiegherà meglio, di dare un supporto scientifico, di dare un aiuto per anche destreggiarsi in quello che è un po' un mondo di fake news che ci sono e che si trovano in internet. E l'altra associazione è Medico Cura Te Stesso, nella quale raccoglie degli studi, delle testimonianze, delle esperienze che i medici fanno come pazienti, come persone in disarmonia. Poi c'è il professor Soresi, Vincenzo Soresi. Allora, il professor Vincenzo Soresi è un patologo, un pneumologo, è stato primario di pneumologia al Niguarda ed è autore di pubblicazioni molto interessanti, tra cui il cervello anarchico, ne cito qualcuna, guarire con la medicina integrata, mitocondrio monamur. Si interessa ovviamente di oncologia e un pochettino a 360 gradi di tutta la medicina sperimentale, le novità che ci sono. È una persona, tra l'altro, che fa esperienza di sé, delle cose che studia e che propone alle persone che chiedono a lui aiuto. E dopodiché abbiamo la dottoressa Paola Dallora, è un medico psichiatra. Ecco, lei si occupa ovviamente, a parte i suoi doveri professionali, è una appassionata esperta di Qigong che ha anche introdotto come pratica di medicina, quindi il Qigong medico. Poi magari ci dirà qualche accenno di che cosa, in che cosa consista. Ovviamente, essendo una psichiatra, ma non solo per questo, per la sua sensibilità, la connessione corpo-mente ovviamente è, insomma, un suo cavallo di battaglia. Poi abbiamo la dottoressa Sabine Eck. Sabine, sì. A Sergio piace molto citare il nome tedesco. No, perché noi diciamo Sabine, ma invece si dice Sabine, con la S12. Quindi è tedesca, come si è capito, ma ovviamente naturalizzata qui in Italia. È un medico ed è un esperto in salutogenesi. Poi ci spiegherà che cosa consiste. Il dottor Sergio Signori, veniamo al protagonista, ecco, diciamo, il protagonista nel senso che è stato un pochettino l'ispiratore di questo convegno. Sergio Signori è autore del libro Siamo guariti dal cancro. L'ho dimenticato di portare. Va bene. Da questo nasce la sua ricerca, ormai pluridecennale, di trovare il quid del stato di salute, trovare la forza di guarigione, di restituzione a quella integrità che ci è propria come organismi biologici. Ma con questo non voglio essere riduttivo per tutto il suo lavoro ormai di quanti anni, Sergio. Beh, sono sei anni che ho cominciato a raccogliere i guarigioni. La numero uno non c'è oggi, non poteva venire. Era un'amica di Padova, che 26 anni fa è guarita, lasciandosi dentro nella pancia. Per questo prima dicevo, il protettorvi sani è difficile distinguere. Gli hanno detto, se fai così non ti fai rioperare, non fai chemioterapia, il massimo è sei mesi di vita. Sono passati 26 anni. E, tanto per dire una delle componenti a cui ha già accennato Sergio, così abbiamo già cominciato la tavola rotonda. E quando andava a dire i medici sono guarita, non ci credevano. Però lei ha i vetrini del suo esame istologico, un oncologo le ha chiesto scusa. Ecco, questo accade frequentemente, molto più frequentemente di quanto pensiamo. Ecco, Sergio Signori è anche e soprattutto un divulgatore di questa modalità di approccio alla medicina della salute. Lui è promotore di iniziative come questa, io ho partecipato ad altre riunioni come questa. e ce ne sono molte altre in programma. Ecco, se vogliamo citarne... Sì, allora abbiamo qui per esempio la signora Lagunigro, che è il presidente di Rosa per la vita di Milano. A Milano ci sarà una giornata dei guariti domenica 17 novembre. A Torino sarà primo dicembre ed è in programma anche una giornata a Firenze in una bellissima data che è domenica 8 marzo dell'anno prossimo festa della donna. Quindi il discorso si sta ampliando e sta raggiungendo grandi città. Bene, allora io direi di entrare proprio nel tema della cosiddetta tavola rotonda o rettangolare come la volete chiamare. Quindi il tema è è possibile passare dalla medicina della malattia alla medicina della salute? Quale delega daremo ai medici del futuro sulla nostra salute? Ecco, questo qua io direi di magari proprio per ordine di schieramento. Ecco, se vuole cominciare il professor Palmieri. Niente, io quindi sarò brevissimo quindi salterò un sacco di depositive ma volevo solo iniziare ringraziando moltissimo Sergio Signori perché quando stavo preparando queste slide mi è venuto in mente Amleto di Shakespeare quando dice se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi sassi e i dardi dell'iniqua fortuna o prendere l'armi contro un mare dei triboli e combattendo disperderli. Morire e dormire nulla di più e con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturali retaggio della carne è soluzione da accogliere a mani giunte dice sempre Amleto morire, dormire, sognare forse ma qui è l'ostacolo chi vorrebbe se no sopportare le frustate e gli insulti del tempo le angherie del tiranno il disprezzo dell'uomo borioso e qui entrano in campo molti medici le angosce del respinto amore gli indugi della legge la tracotanza dei grandi i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri quando di mano proprio potrebbe saldare il conto con due dita di pugnale Amleto vorrebbe autosopprimersi in realtà il signore dice no, tirate fuori la vostra forza naturale tirate fuori le vostre riserve vitali attingete al vostro spirito di sopravvivenza al di là delle diagnosi o delle proposte negative che la medicina vi paventa in senso prognostico ecco questo messaggio secondo me è bellissimo e specialmente perché incoraggia i non guariti quelli che sono ancora in piena battaglia ad essere ottimisti e guardare al futuro con grande volontà anche perché e qui entra in campo questo banale network del secondo parere noi riteniamo che molto spesso oggi con la facilità della consultazione del web si ricade facilmente in un disorientamento che prende il soggetto quando guardando la propria malattia su internet trova di tutto e di più siti più o meno autoreferenziali e quindi noi abbiamo proposto l'università di fare questo network che l'abbiamo realizzato in questi ultimi sette anni per cui il secondo parere sta diventando in questo momento un vero punto di riferimento per tanti pazienti che mandano le loro cartelle cliniche i loro quesiti diagnostici a noi se è necessario li vediamo se noi evadiamo via web le risposte consultando insieme con noi una rete di medici che hanno entusiasticamente aderito a collaborare liberamente a questo progetto di consulenza medici qualificati che però abbiamo scelto noi e che rinnoviamo continuamente nella lista delle persone qualificate naturalmente esistono dei servizi come in Svizzera in cui il secondo parere è pagato delle assicurazioni perché fa risparmiare risorse altre nazioni come l'Italia sono ancora in una fase di assestamento però quello che volevo dire è che ci sono dei grandi vantaggi culturali anche perché noi da questo osservatorio poi ricaviamo stimoli eccezionali per rilanciare tutta una serie di ipotesi di malattia di epidemiologia di cure di cure nuove di formulare nuove cure quindi in sostanza è veramente un croggiuolo di informazioni che noi vogliamo trasformare in una positiva proposta di cura e di miglioramento questi sono gli obiettivi ma non ve li voglio nemmeno leggere perché sono ovvi e gli studi ci permettono poi anche di pubblicare tanti dati e anche di fare un po' di pressione psicologica sulle ASLE affinché anche loro tengono in considerazione i possibili errori o i possibili sperequazioni anche in ambito terapeutico e diagnostico che spesso incorrono specialmente in pazienti in soggetti che hanno più di un problema di salute andando avanti con gli anni tutti noi accusiamo questi fenomeni ma guardate un attimo tra le pubblicazioni che ci sono state come cambia col secondo parere la diagnosi la diagnosi viene trasformata da maligna a benigna nel 15% delle osservazioni di secondo parere e le classificazioni di tumori cambiano ma cambiando le classificazioni di tumori ovviamente cambia anche tutta l'impostazione spesso del trattamento del paziente saltiamo tutte le bibliografie ne abbiamo molte anche di nostre anche perché ci siamo imbattuti in patologie le più strane le più varie quindi ci siamo occupati anche dell'applicazione del CBD o del THC della cannabis in malattia difficile trattamento o in situazione di squilibrio grave e un'altra malattia devastante interessantissima è la sensibilità chimica multipla di cui ci stiamo occupando da un paio d'anni anche questo è un tema assolutamente drammatico ed emergente non mi voglio dilungare ma vi dico che noi ci occupiamo di tutte queste cose cercando poi anche di progettare delle ricerche che abbiano come tema la soluzione possibile o il miglioramento delle condizioni generali del paziente faccio un breve accenno alla genetica perché nella mia cultura che è certamente integrata ma è fondamentalmente ortodossa cioè tiene in grande considerazione lo sforzo culturale della medicina di dare dei codici delle definizioni delle malattie noi col DNA nostro più quello del microbiota che ci colonizza e dal quale siamo in un qualche modo condizionati su tutto il fronte della patologia e della salute stiamo studiando questi fenomeni perché il nostro DNA non è così stabile come la salute vorrebbe garantirci ma è soggetto a frequentissime modificazioni che si chiamano polialelismi che si chiamano delezioni che si chiamano soppressioni di genere per cui in queste condizioni noi siamo in un qualche modo ingabbiati in una struttura che è molto dinamica che è molto anche in un certo senso condizionata da varie azioni legate all'alimentazione al nostro stile di vita alla componente psichica del nostro essere di cui siamo ancora gli albori come ricerca quindi il nostro DNA è influenzabile e noi vogliamo sapere meglio come lo è e soprattutto da che cosa partiamo perché quando c'è una diagnosi di un tumore diagnosi selezionata a livello anatomopatologico citochimico citochimico quel tumore può dal punto di vista del DNA esprimersi in diverse modi in diverse evoluzioni e anche come sicuramente molti di noi hanno visto sopprimersi autonomamente spontaneamente non frequentemente ma nella nostra vita professionale abbiamo osservato parecchie volte e vado rapidamente invece al problema di medico corte stesso noi volevamo abbassare il tasso di sicurezza dei medici quello che è il medico selfish sicuro di sé quello che è il giovane medico che c'è dall'università e sa che in base alle statistiche è un risultato a quella direzione noi abbiamo fatto diverse ricerche su questa autosperimentazione dei medici e ricorrendo anche a delle figure nobili importanti che nella storia della medicina hanno ripercorso delle tappe di innovazione diagnostica terapeutica sulla loro pelle gli ultimi sono stati quelli che hanno identificato l'helicobacter pylori per l'ulcera autosomministrandosi lo stesso microbo che l'ha generata e poi curandosi con l'antibiotico quindi praticamente l'idea finale è proprio che il medico si omologa col paziente cura i pazienti come se curasse se stesso è un dialogo molto interessante ma la cosa che io raccomando di più e ancora raccomando molto a signori il quale è un artista voi non lo sapete ma lo è è quella di dare vitalità nei medici anche alla parte artistica a questa sensibilità di creativa che il medico spesso sopprime perché è oppresso dal cursus honorum o dalla serie di studi che deve sopportare e che invece è un'anima formidabile del dialogo medico-paziente è una vis sanatrix a sua volta quindi fa molto bene e in tante versioni tutti i nostri congressi riportiamo nelle salette collaterali delle produzioni artistiche letterarie pittoriche scultore eccetera in modo che fotografiche in modo che questi medici possano essi stessi non solo testimoniare le malattie di cui andiamo parlando scientificamente nei congressi che organizziamo noi ma anche esprimano liberamente non necessariamente attorno all'argomento che trattiamo ma in generale queste qualità e queste qualità che io semplicemente vi faccio vedere in una carrellata ad esempio nell'ultimo convegno che abbiamo fatto è bella perché è liberatoria è catardica e quindi anche il paziente e il medico se vivono in sinergia in sintonia questa forma espressiva liberatoria certamente ne ricavano un grandissimo beneficio e quindi da questo punto di vista la mia provocazione a Sergio Signori e Sergio Labella che io chiamo Lorsignori perché hanno lo stesso nome è proprio quella che ad ogni convegno dobbiamo portare iniziative nuove idee nuove io non voglio vedere delle ripetizioni se parteciperò come voglio fare ai prossimi congressi ma voglio che ognuno che viene qui a dichiarare io sono guarito in barba la privacy per fortuna possa anche darci dei messaggi a noi scienziati di capire come hanno espresso la loro energia di guarigione e a noi come uomini come esseri umani come rapporti relazionali rompendo questo muro di omertà anche comunicarci epidermicamente queste emozioni creative che sono parte di questa forza di guarigione io l'ho capito i medici migliori sono quelli che dipingono che scolpiscono che fanno fotografie che le mettono in sala d'aspetto e su queste parlo i pazienti ed è su questo aspetto che io ho molto insistito non tanto per arricchire di coreografie i congressi ma per dare una sostanza umana a quello che stiamo facendo grazie 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 rosso palmieri l'abbiamo pagato bene per parlare così ne approfitto per dire che oggi qui nessuno guadagna nulla sono venuti tutti gratuitamente questa è una bellissima cosa ecco questo è un aspetto molto importante ovviamente al di là della generosità dei relatori che sono venuti qui a parlarci in termini scientifici ma anche come testimonianza appunto dei guariti è molto importante fare attenzione invece a una forma di interesse nel mondo della salute che riguarda non soltanto il cosiddetto big pharma che è un po' uno spauracchio che talvolta viene agitato ma anche chi si butta nella mischia in maniera da ciarlatano e può creare dei problemi ecco noi pensiamo che e riconosciamo quello che riconosce la legge che la terapia deve essere fatta condotta sia pure nella sua multiforme varietà da persone che sono abilitate a farlo ecco e direi che il professor Soresici vuole esprimersi magari sulla provocazione iniziale oppure ecco sulla sua impressione grazie per questo invito mi sono proprio emozionato e a proposito di guarigioni spontanee io sono figlio di un medico tisiologo io nel libro che ho finito di scrivere in questi giorni racconto che all'età di 5 anni giocava a palla col bacillo di Koch perché mio padre tornava dal sanatorio e portava in casa le lastre quindi io sono vissuto difeso dall'immunità innata e mio padre è tornato dalla campagna di Russia quindi dopo l'entusiasmo dell'impegno sanatoriale ha inaugurato il sanatorio di Vialba con Mussolini e è partito dalla campagna di Russia è sceso dal treno è cominciato a ritirarsi e è ritornato per sua fortuna a Milano e curava la tubercolosi con l'apparecchio Forlanini cos'è l'apparecchio Forlanini? il professor Forlanini è un medico di Pavia che aveva ideato questo apparecchio con cui si insufflava aria fra le due pleure quindi con un ago d'acciaio si infilava nel torace si pompavano 300 cc di aria quest'aria collassava il polmone e l'ipotesi Forlanini era che il polmone collassato impedisse al focolare tubercolare di diffondere i bacilli di Koch e questa era l'ipotesi molto bella in realtà il bacilli di Koch diffonde per via linfatica e per via ematica quindi non aveva senso ma perché guardivano i pazienti? perché c'era lo stimolo della pleura quindi scatenava lo stimolo della pleura che cosa? il macrofago che è la cellula che ci difende da tutto il macrofago è la cellula dell'immunità innata che gira per il corpo e ogni giorno ammazza virus e batteri e le ammazza con delle caratteristiche molto singolari fa un brasto respiratorio produce ossido nitrico che tramortisce il virus poi il suo DNA si distende quindi lui muore si immola e il DNA distrugge del tutto i virus e i batteri ogni giorno 100 milioni di macrofagi muoiono per tenerci puliti pensate i fumatori come li riducono perché quando li studiavo al microscopio i poveri macrofagi erano pieni di carbone quindi tornando alla guarigione dei pazienti con la tubercolosi che cosa faceva guarire? lo stimolo della pleve quindi l'attivazione dell'immunità innata la relazione cioè ogni 6 settimane veniva dal medico il riposo la buona alimentazione quindi tutto questo percorso era sostenuto da difese biologiche quando io entrai a Niguarda feci 3 anni il patologo per passare in pneumologia e lì trovai i problemi del tumore polmonare quindi presi la specialità in oncologia clinica e nel 72 avvenne il primo strano episodio che mi aprì la mente verso una medicina integrata di metto un paziente di 60 anni che aveva un grosso tumore polmonare inoperabile a cui avevo proposto dei cicli di chemioterapia e lui in maniera anche abbastanza villana se ne andò dopo due mesi tornò io ero di guardia e lui bussò dicendo dottor Soresi ha tempo di vedere una lastra dico volentieri metto la lastra su e il tumore si era ridotto del 50% dico ma lei è andata a fare chemioterapia no no e tira fuori una scatoletta cosa c'era sulla scatoletta? Iscador Biscum Album medicina steineriana mi faccio dare il nome del medico che gli aveva prescritto e vado a trovare questo professor buongiorno vecchio medico steineriano ottantenne e ho passato un pomeriggio pieno di cultura dopo incuriosito dal fatto sono andato a Basilea dove la dottoressa Leroy preparava direttamente il vischio quindi perché il vischio funzionava e funziona perché agiva sul sistema immunitario quindi attività antiproliferative e parallelamente attività sul sistema immunitario per cui io dimettevo i pazienti da Niguarda operati di tumor polmonare a rischio di recidiva e davo il vischio davo il vischio sotto cute con piccole terapie un vischio che si trovava normalmente in commercio da sempre questo fu il primo episodio che mi illuminò sulla medicina integrata il secondo fu ancora più intrigante anni ottanta bussano sempre alla porta ero spesso a Niguarda bussano alla porta c'era questo quest'uomo di 40 anni un bell'uomo che si qualifica come un psicologo cileno con un pacco di lastre sotto braccio e dice dottor Soresi ha tempo di vedere queste radiografie dico volentieri metto tutte le lastre in sostanza era suo suocero che aveva un tumore polmonare e lui voleva sapere se questo tumore polmonare grazie al metodo Simonton che lui applicava su questo paziente campava più del dovuto calcolate che il tempo medio di sopravvivenza per i tumori inoperabili era intorno agli otto mesi e questo signore campava da venti mesi e quindi gli dissi sì Simone questo è sicuramente il risultato c'è però un caso non fa scienza però mi appassionai al metodo Simonton che continuo a proporre ai miei pazienti perché? perché il metodo Simonton che cos'è? uno psicologo uno oncologo americani loro già negli anni settanta facevano questo lavoro di Combin chi faceva chemioterapia o radioterapia lavorava a livello psicologico con visualizzazioni per potenziare l'azione di ciò che ricevevano in senso chimico e in senso radiante quindi che cosa ha fatto Simona? ha anticipato il metodo placebo su un piano scientifico il metodo placebo è l'aspettativa terapeutica e la risposta terapeutica di ognuno di noi il più grosso studioso italiano che forse credo europeo del metodo placebo è Fabrizio Benedetti un neurofisiologo di Torino il cui ultimo libro è La speranza è un farmaco lui che cosa ha fatto? ha preso una donna con grandi dolori si è seduto vicino a lei sotto risonanza magnetica per vedere l'attivazione cerebrale e ha provato a iniettare lentamente della morfina comunicandole adesso lei con questa morfina il dolore andrà via il dolore è andato via per un po' di giorni dopo un po' di giorni stessa scena stessa ripetizione lui si è seduto vicino al paziente senza parlare e la morfina è stata iniettata da un computer e il dolore non è passato quindi che cosa apre la porta alla terapia? la relazione quindi è sempre la relazione che biologicamente accende una risposta quindi mai vivere passivamente o subire passivamente determinati trattamenti per cui piano piano io nel percorso di 30 anni di Niguarda ho sviluppato questo tema che poi si è tradotto in questo libro che è il cervello anarchico il cervello anarchico è un libro uscito nel 2006 ha fatto 60.000 coppie 14 ristampe perché perché apre la porta una scienza definita PNEI psico neuroendocrinologia che io spiego perfettamente e da dove l'ho derivata? da un tumore un tumore a struttura neuroendocrina se voi chiedete ad un endocrinologo cos'è il sistema neuroendocrino le idee non erano chiarissime io poi vivevo a Niguarda avevo tutti i consulenti specialisti in realtà il sistema neuroendocrino è un sistema diffuso di cellule che producono ormoni neurotrasmettitori peptidi tutto quello che il nostro organismo produce e con cui le cellule si parlano ed è ovunque quindi quando voi fate attività fisica perché fa bene a parte il mitocondrio fa bene perché liberate dal muscolo con cellule neuroendocrine brain nerve growth factor che è il la sostanza scoperta ridita le vie montalcini che nutre il cervello quindi vedete come si chiudono piano piano tante aperture tante ipotesi per cui il mio percorso di medico che ormai superi 50 anni in medicina non ha fatto altro che rispettare tutte le nuove scoperte biologiche quindi l'apnea io l'ho vissuta sul campo e l'ho costruita piano piano perché le citochine cosa sono quando uscì l'interferone cos'era l'interferone non era chiaro l'interferone è una cosa produciamo noi noi produciamo interferone interleuchine sono tutte sostanze che produciamo per far parlare le cellule quindi le cellule parlano fra sistema neuroendocrino sistema immunitario e strutture emotive del cervello e lì arriva il dunque se io sono sotto stress emozionale cosa faccio? produco citochine infiammatorie che bombardano che cosa? l'organo bersaglio esempio dono il servizio ma è un giorno di malattia a un certo punto il figlio dice mamma io vado in Messica a fare il cameriere stress familiare drammatico dopo 15 giorni ginocchio gonfio caldo dolente lastra gravissima artrosi della tibia che non si era mai accesa bombardamento di citochine flagogene ha acceso la malattia e l'ho dovuta far operare caso analogo mia paziente amica bronchiectasie sono delle dilettazioni dei bronchi che raccolgono infezione con questa da anni un paio di volte l'anno terapia antibiotica e tutto andava bene a un certo punto bombardamento di infezione ma dico ma Francesca cosa ti succede? il matrimonio va malissimo ricovero ospedaliero inondata ad antibiotici a fatica la tiro fuori e la dimetto non la vedo per due anni la chiamo e dico Francesca che fine è fatto? sto benissimo mi sono separata e vado in chiesa tutte le mattine quindi l'assetto psichico di stabilità ha controllato che cosa? il bombardamento di citochine che vengono da lì perché tutte le cellule producono anche i neuroni per cui finisco con questo plateale caso di miracolo plateale perché? perché è una risposta biologica quindi accendo la televisione contadino con vicino il medico che conferma che questo aveva un melanoma metastatico quindi non aveva grandi chance essendo un fedele di madre Teresa di Calcutta viene portato da madre Teresa di Calcutta arriva lì questa gli dà l'immaginetta e lui guarisce io l'ho chiamato shock carismatico uscito su Repubblica scritto da Garimberti cosa vuol dire? il melanoma è un tumore potentemente antigenico è l'unico tumore che ha un antigene specifico per cui l'organismo produce gli anticorpi ma è talmente violento l'antigene che paralizza il sistema di Italia per cui aspettativa fideistica cervello arcaico shock carismatico immaginetta fiumi di citochine che sono le interleuchine e interferone cosa fa l'interferone? fa leggere meglio l'antigene in omeopatia si usa l'interferone anche in oncologia per ottimizzare la risposta dell'antigene quindi questo fiume di citochine non ha fatto altro che ripresentare gli anticorpi e far guarire il paziente come si guarisce oggi il melanoma o come si va in remissione con il melanoma? con due immunanticorpi quindi la grande novità della oncologia è l'immuno-oncologia che sta rivoluzionando finalmente un percorso che io chiamo medievale che è quello della chemioterapia il mio libro mitocondio nasce da una mia esperienza diretta sui fumatori chi gioca a tennis e fuma ha sempre ossigeno perché muscolo ma cosa c'è nel muscolo? mitocondi in una cellula muscolare sono da 4 a 5 mila mitocondi fanno tutto loro nascono dalla biomassa andavano a metano quando passano l'ossigeno si alleano con la cellula e fanno un'alleanza di endosimbiosi e nel nostro organismo abbiamo miliardi di mitocondi più loro stanno bene più noi stiamo bene quando noi facciamo attività fisica loro sono felici producono le mitochine che sono delle citochine antinfiammatorie quindi ecco perché ho scritto mitocondio perché è lì dove troviamo il benessere che cosa si sta sostanzialmente concretizzando che noi siamo dei simbionti ospiti dei batteri microbiota e mitocondio quindi siamo all'interno di una realtà che poi ci spiegherà bene la dottoressa nello sviluppo energetico in questo spazio dove siamo noi siamo dei simbionti quindi non ho fatto altro che in 55 anni di medicina osservare tutte le scoperte della biologia e tradurle in un libro di divulgativi l'ultimo che ho finito è ancora più intrigante perché lavora sul mio io biologico a 73 anni mi ero reso conto di avere una sindrome metabolica non ho aspettato di diventare diabetica ho anticipato con un farmaco che seguitelo la metformina è un farmaco che nel 2023 dava risposte importanti di studi in atto la chiamano la pillola della longevità perché che cosa fa la metformina sensibilizza il recettore dell'insulina io mi ero trovato un'insulina mia alta prendendo la metformina e spostando l'alimentazione e la riduzione dei carboidrati mi sono trovato un'insulina 5 in 7 anni io ho compiuto 81 anni il titolo del mio libro è come ringiovanire invecchiando proprio perché ho lavorato sul mio io biologico il libro è un compendio è un compendio che ha dentro tante informazioni sull'oncologia integrata con amici che mi hanno mandato capitoli capitoli di oncologia capitoli di relazione medico-paziente uscirà per la UTET a fine anno grazie a tutti grazie grazie e complimenti per i suoi 81 anni direi portati molto bene siamo a Paola Dallora grazie buongiorno a tutti poi anche relatorizia durante la giornata sì e quindi posticipo dopo l'approfondimento del discorso voglio fare io qua volevo così condividere con voi alcuni pensieri sollecitati dai miei colleghi la prima cosa è un senso di gratitudine che io ho mezzo secolo dopo perché sono passati ben 50 anni ogni volta che sento citare i miei amici Simonton e raccomando a tutti la lettura di questi libri purtroppo la medicina la cultura il pensiero il linguaggio il nostro modo di pensare ha dei tempi veramente geologici per cui anche se sono passati 50 anni tanto ancora dobbiamo cambiare delle tante cose preziose che ci hanno detto una delle tante bisogna avere meno paura del tumore di queste malattie importanti la nostra cultura il nostro modo di comunicare di parlarne spesso usa un linguaggio che rende toti potenti queste cellule che le rende che rende mostruoso questo tumore che lo paragona a un granchio che si infila dappertutto nell'organismo e così via creando ed evocando nella mente nelle nostre emozioni un clima di allarme e di paura che è veramente contagioso che contagia il medico il curante i sanitari che sono costretti ad assumere degli atteggiamenti giocofoli non che sono cattivi ma degli atteggiamenti difensivi che tutti conoscono di distacco a volte anche di vero e proprio sadismo eccetera che sono dettati dalla necessità della mente di difendersi da tutta questa angoscia e di cui ovviamente sono poi vittime i cosiddetti pazienti allora la paura della malattia e la spirale della paura ormai noi sappiamo proprio dal punto di vista neurobiologico quanti danni fa quanti danni fa al nostro sistema immunitario quanto ci impregna di ormoni dello stress che fanno aumentare gli zuccheri cioè la glicemia nel sangue e questo dato che le cellule tumorali sono molto ghiotte di zuccheri crea un effetto paradossale il paziente è sempre più spaventato il paziente rischia di essere sempre più malato tutte queste parole per dire che dobbiamo a 50 anni da quel lavoro pioneristico che è stato enormemente approfondito dobbiamo ancora uscire dalla paura delle malattie e per avere meno paura delle malattie bisogna sviluppare più fiducia di poterla affrontare e per sviluppare più fiducia di poterla affrontare dobbiamo cambiare il modo di concepirle e anche di come dire spostare il perno su cui si basa ogni processo di cura da il medico protagonista in una visione un po' un po' autoritaria un po' ottocentesca un po' positivista di ogni processo terapeutico il medico che dà il farmaco il medico che restituisce la salute il paziente soggetto passivo di questo processo ha una visione diversa molto più complessa oggi si parla spesso di lavoro di squadra di rete in cui al paziente viene restituita tutta la sua il suo ruolo di protagonista il suo ruolo attivo dai simontoni in poi è stato molto approfondito il fatto che la malattia è un disturbo di tutta la persona non solo di un organo che la malattia richiede un profondo cambiamento e che la possibilità di guarigione anche dalle malattie più gravi come le testimonianze che sicuramente ascolteremo con interesse e con rispetto richiede un cambiamento e se questo cambiamento avviene porta a dei risultati che noi chiamiamo miracolosi ma che in realtà forse non lo sono se vediamo le cose da questo vertice c'è stata una risposta a questa richiesta di cambiamento delle opere ormai molto antiche come il canone dell'imperatore giallo che risale a migliaia di anni fa che è una delle opere più note di medicina cinese ci ricorda già allora che ogni malattia è figlia di una deviazione di un tradimento profondo della natura più vera della persona io credo che ogni malato sia nel corpo che nella mente possa ritrovare questo senso di riavvicinamento al nucleo più vero di sé e la medicina integrata con tutti gli strumenti che mette a disposizione che sostengono il corpo che sostengono le risorse interne e la creatività dei medici come ricordava Palmieri ma anche la creatività enorme dei pazienti può riportare a questo riavvicinamento alla vera natura della persona allora io credo molto a questo cioè a togliere potere alle malattie un'altra cosa che trovo molto interessante che proviene da discipline che cercherò poi di approfondire nella mia relazione che provengono dall'Oriente come il Cicom medico la medicina cinese è cominciare a occuparsi oltre che della patogenesi di che cos'è la salute e di come soprattutto nutrire sostenere e ripristinare la salute ogni malattia porta a un enorme impoverimento di energie che servono per contrastare per vincere anche sulla malattia e esiste esistono molti modi per vivere per introdurre dei cambiamenti importanti nello stile di vita di una persona che possono portare a nutrire la salute nel senso di recuperare le proprie energie personali che sono molto in contrasto con il nostro modo di vivere che è un bombardamento continuo di stimoli che è il multitasking che è fare continuamente e contemporaneamente moltissime cose che è perdere una consapevolezza di quello che stiamo facendo quando lo stiamo facendo allora pratiche che riportano ad una consapevolezza a una centratura a una a momenti di quiete assoluta in cui c'è un vero e proprio svuotamento del corpo e della mente tutto questo si è visto che aiuta l'organismo ad autoripararsi qui vengo all'ultimo punto una medicina che va verso la salute vuole recuperare sempre di più quel meccanismo naturale quei meccanismi naturali di autoriparazione di cui il sistema immunitario ovviamente è un il primo esempio che possono aiutare la persona a recuperare la salute se noi andiamo verso una medicina che studia sempre di più e nutre sempre di più anche la salute aiutiamo anche la persona a nutrire alimentare sempre di più queste risorse naturali che tutti abbiamo e concordo molto che sono molto legate alla creatività di ciascuno e qui arriviamo all'aspetto assolutamente soggettivo come i bellissimi volti che abbiamo visto delle persone che impersonavano prima in questa fila la guarigione dalle loro storie di malattia e sono volti tutti diversi erano sguardi tutti diversi storie tutte diverse quindi c'è un elemento imprescindibile soggettivo nell'essere riusciti a attingere a queste risorse interiori grazie grazie a Paola d'allora allora dottoressa Zabine Eck vuole darsi il suo parere buona mattinata a tutti ringrazio Sergio di avermi chiamato anche in questo evento perché è occasione diciamo di diffondere le proprie esperienze quando ho fatto l'università a Bologna mi sono reso conto tanti decenni dopo in realtà avevo l'occasione spesso di sentire anche esperienze personali dei professori perché i professori che insegnavano allora erano medici che avevano fatto la guerra potete immaginare quindi gli episodi singoli che raccontavano mi ricordo un collega di una certa età mi diceva se subentri in un luogo di incidente allora era possibile intanto di che sei medico e questo tranquillizza dovrebbe tranquillizzare magari l'infortunato non puoi fare niente lo metti nella posizione adeguata e poi usa un metodo diciamo dove si sfrutta diciamo l'effetto placebo prendi un abiro fai una finta iniezione e gli dici che è un potente antidolorifico perché per caso ce l'ha in tasca cioè queste sono cose che poi nei decenni lavorano dentro di noi perché ovviamente l'effetto placebo oggi viene dato come così un effetto quasi non desiderato oppure comunque di disturbo ma noi siamo esseri umani è diverso quando voi dicete ho un raffreddore o sono raffreddata quindi questo ritorna alla centralità della persona e ovviamente sentiamo tutti la necessità sia medici che pazienti perché esseri umani siamo non avere umano perché se il paziente viene visto dal punto di vista esterno ha una malattia quando mi sono laureata e mi sono messa in proprio subito per una serie di motivi cercavo la terapia migliore perché ero stato addestrato comunque a curare io il paziente poi attraverso i miei pazienti ho imparato che ci sono infinite vie di guarigione tantissime soprattutto le donne sono molto creative devo dire e ringrazio una serie di pazienti che mi hanno veramente illuminato quindi non è tanto la terapia ma è come viene accolta quindi questo come è estremamente importante perché voler fare una cosa e dover fare una cosa lo sappiamo anche nel nostro piccolo se volete fare una cosa c'è il lancio volete mettere a posto la cantina se dovete metterla a posto è un'altra energia perché noi siamo estresenzienti noi sentiamo oggi siamo abituati a misurare le persone dall'esterno cioè diciamo siamo sani quando non abbiamo l'asterischi nell'esame del sangue ma abbiamo tanti pazienti che non hanno l'asterischi ma dicono non mi sento bene no quindi sono malati immaginari no sono persone che sentono che non sono nella loro nel loro equilibrio quello che una volta si chiamava forza vitale la visvite che in medicina moderna è stata eliminata questo termine ma se io chiedo a una mamma che ha un bambino con 39 di febbre com'è l'energia vitale di tuo figlio e mi dice al 90% è lì che sposta i mobili io sono tranquillissima mi preoccupa molto di più un bambino che ha 37 e mezzo e sta come un pesce l'essere un braccio perché l'energia vitale segnala la salute intorno alla malattia quindi la salute sottogenesi che diciamo l'unico diciamo sottotitolo che ho trovato alla mia laurea è l'arte della conoscenza di ciò che produce salute mi lancio perché in ultimo potremmo dire perché noi siamo abituati a pensare che con l'età collezioniamo malattie finché moriamo come collezionisti di mali se noi invece ci buttiamo dall'altra parte potremmo dire non sono le malattie che ci mangiano la vita ma è la salute che ci mangiano le malattie perché ho potuto vedere conoscere persone che a 60 anni stavano meglio che a 40 appunto perché si sono separati da un partner hanno cambiato lavoro hanno fatto un trekking di sei mesi si sono dati un out dalla loro routine sono usciti dalla ruota del criceto e hanno fatto il viaggio cercando se stessi perché in ultimo è questo il senso della vita essere esseri che sono creativi e la creatività oggi che le malattie croniche crescono come i funghi perché questo è un dato di fatto perché abbiamo età sempre più giovani malattie croniche che diciamo tradizionalmente pativano a 70 anni noi siamo diciamo richiamati a vedere anche salutogenesi non come fare gli esami ogni sei mesi ma sapere cosa genera salute e sono le cose più semplici che magari come medico uno dice ma tanto lo sappiamo cantare ballare muoversi relazioni sane perché non è che litigare fa male ma esiste una modalità di litigare che è sano non offendersi ma trasformare la trasformazione in un articolo decenni fa ho letto che un tumore è crescita su un piano erato mi è piaciuto molto ovviamente un approccio metaforico simbolico perché noi oggi ci siamo fermati in un rapporto analitico delle malattie che va benissimo ma è solo come un braccio della faccenda c'è l'altro braccio che è invece quello simbolico e le persone che la loro malattia la vedono anche in questo senso sono in grado di creare letteralmente una soluzione personalizzata in questo senso le vie del signore sono davvero infinite e ci sono più vie che portano a Roma noi nei detti popolari li abbiamo tutti sedimentati non tutti i mali vengono per nuocciano quante persone con una malattia grave cominciano a svegliarsi e credo nelle testimonianze noi questa cosa la sentiremo come filo conduttore cioè cominciano a essere e a a prendere decisioni perché noi purtroppo siamo abituati fin dalla scuola che c'è sempre qualcuno che sa più di noi invece noi siamo dotati in un apparato di cinque sensi più il sesto senso il sesto senso attualmente non viene studiato è potentissimo il sesto senso è potente ma oggi non è attivo non è non è allenato perché se io prendo un bambino di una favela che ha 15 anni rispetto a un nostro 15enne ha molto più competenze di problem solving lo sappiamo e questo non vuol dire che io mio figlio voglio mandare alla favela ma c'è qualcosa lì che addestra l'essere in divenire nel suo sensoriale tornando comunque perché uno potrebbe dire sono tante belle parole ma servono anche le statistiche mi sono di solito quando una cosa mi è molto antipatico vado a vedere perché mi è antipatico e studiando il mondo delle statistiche è veramente tosto per noi medici mediamente pochi li amano mi sono imbaccata nella nella statistica perché io personalmente la chiamo la mamma di tutte le statistiche che è la curva di Gauss la curva di Gauss o la curva della distribuzione della normalità è una curva alquanto curiosa perché è vera sempre adesso io ve la illustro perché devo fare un disegnino perché raccontarlo è troppo teorico mi metto sulla lavagna c'è il microfono mobile il gelato è lì bisogna accendere funziona? sì allora la Gaussiana se andate a vedere su wikipedia oppure in un sito in matematica ha una formula complicatissima che ve la risparmio perché non la so nemmeno io comunque il concetto è piuttosto semplice in questa curva si prende un parametro qualsiasi parametro significa misuro una cosa nella sua totalità l'altezza delle magherizze su un prato il numero delle scarpe di tutte le donne italiane ok? e verrà fuori una curva su per giù fatta così una specie una specie di monte io che sono donna dico un bel seno cos'è così interessante di questa perché avremo mettiamo l'esempio delle scape ok? un esempio non medico poi faccio quelli medici pochissime donne portano pochissime qui c'è la conta del numero il 30 il 32 sono pochissime donne sempre pochissime donne portano il 44 ok? la maggior parte delle donne portano ciò che troviamo nei negozi dal 36 al 40 adesso visto che le generazioni nuove sono cresciute troviamo anche il 42 perché è importante questo? perché questo nella scienza adesso non sono più scarpe ma sono le malattie lo chiamiamo norma norma ma Gauss questa curva l'ha chiamata della distribuzione della normalità ok? la normalità più vasta la normalità è da Bud Spencer a Terence Hill l'immaginato sei mesi di vita Bud Spencer neonato troppo grosso Terence Hill neonato troppo piccolo quindi fuori norma ma poi sono diventati famosi per fortuna quindi noi che abbiamo qui i guariti che saranno famosi in medicina si chiamano in long survival ok? perché se io prendo parametro tempo di guarigione di 10.000 persone che hanno lo stesso medesimo tumore stessa età tutti di sesso femminile e faccio la curva della sopravvivenza avrò alcune persone che muoiono prima del previsto alcune che vanno oltre le aspettative questo è molto importante perché noi quando facciamo statistica tendiamo a non ragionare non considerare i due estremi per esempio i guaritori dei raffreddori la curva va letta al contrario guarire di un raffreddore in 6 ore è interessantissimo sono gli innamorati infatti l'amore ve lo consiglio è la medicina più potente ma non amate solo i vostri cari amate la vita così anche se ci sono cambi di partner non c'è problema dovete amare la vita ok? quindi costa anche niente e produce endofine dalla mattina alla sera e questi due estremi sono importanti perché l'evoluzione avviene qua perché mi sono chiesta perché la natura madre natura che in tutte le lingue è madre perché la terra per me è un endometrio gigante che ci fa il paradiso ok? e perché ha fatto questa cosa? perché questa curva vale per tutti i fenomeni tutti è una statistica assoluta perché la margherita piccola sopravvive con c'è tempesta ok? e quella alta sopravvive con c'è la gramigna quindi è come una donna prevede i problemi no? per questo noi mettiamo il maglione di lana anche in agosto ok? perché non si sa mai questo range è la statistica di madre natura e noi medici secondo me abbiamo il dovere di studiare i long survivor raggrupparli in un grande istituto e studiare il comune animatore in modo poi di diciamo mettere a disposizione la comunità umana questo è il mio parere quindi badate le parole norma non è uguale a normalità quindi la norma è una restrizione del principio invece della normalità che viene dalla natura norma e cultura ok? e con questo direi che chiudo perché il tempo corre grazie allora Sergio signori siamo in tavola rotonda ecco la provocazione è quella iniziale ecco se vuoi sì ringrazio intanto coloro che mi hanno preceduto e sarò breve è stato parlato dell'effetto placebo io adoro l'ironia quindi ne ho coniato una definizione ironica preziosa qualità della psiche che ha l'imperdonabile difetto di funzionare gratis il fatto che ogni farmaco venga confrontato col placebo è un'amplicita immissione che il placebo funziona e allora dovremo imparare a usarlo l'effetto placebo invece che dire ah sarà mica suggestione detto questo richiamo brevemente l'attenzione su un altro punto che ritengo assolutamente fondamentale per il discorso che vi stiamo proponendo oggi questa tavola rotonda si chiama dalla medicina delle malattie alla medicina della salute avremmo anche potuto chiamarla la medicina della persona allora io ho avuto la fortuna di studiare medicina iurvedica medicina omeopatica floriterapia di Bach fitoterapia ora a parte la floriterapia di Bach queste altre medicine sono state riconosciute medicine dall'organizzazione mondiale della sanità dal parlamento europeo e perfino scusatemi questo perfino dalla federazione nazionale ordini dei medici in linea guida del 2002 riprese nel 2009 sono medicine dichiarate così da tre fonti molto autorevoli e allora perché continuiamo la nostra medicina ufficiale allopatica chiamatela come volete è l'unica nei millenni che appunta tutta l'attenzione sulle malattie e noi medici siamo stati istruiti a fare così fin dall'università e poi per tutta la vita nei convegni e convegno sul retocolito ceroso sul morbo di Crohn prima della relazione che terrò dopo ve lo faremo vedere in modo divertente con un video fatto da un geniale signore allora finché continuiamo a puntare tutta l'attenzione sulle malattie faremo dei buchi nell'acqua le statistiche sono fatte su malattie tutto è fatto su malattie senza tenere conto dell'universo unico individuale di ogni singola persona quindi cosa mi importa sapere che la tale malattia si è rivelata con questo decorso nel 83% delle persone ma erano persone diverse diverse per cultura per mentalità per psiche per tutto quello che avevano dentro per l'ambiente in cui erano oggi il dottor Marinelli parlerà di questo fattore potentissimo perché chiudiamo le persone che fidiamo a malate in ambienti senza aria senza sole senza luce tutto artificiale è asettico certo per difendersi dai batteri ma noi siamo stati progettati per vivere a contatto con la terra in mezzo all'erba respirando aria prendendo il sole non per stare in ambienti così allora sarà ancora brevissimo quando esisteva la tubercolosi qui vicino c'è l'istituto elioterapico di mezza selva mandavano queste persone a respirare a via pure a prendere il sole anni fa sono andato a trovare un amico la cui moglie tra l'altro è qui era in ammatologia allora ho dovuto mettermi una casacca sopra scarpe il bavaglio il berretto e sono entrato in un ambiente lunare dove c'erano tutto artificiale aria cibo che era quel che era tutte persone mare pallide terrorizzate dunque noi pretendiamo che le persone malate guariscano in ambienti così e allora io sono pienamente d'accordo con il professor Palmieri il primo dirà che una volta mi ha detto siamo gli albori della civiltà ma siamo i primi albori della civiltà per questo la mia relazione schiamerà tumori e altre malattie una storia da riscrivere perché noi isoliamo le malattie le abbiamo fatte diventare delle entità concrete infatti in medicina si chiamano entità nosologiche e combattiamo queste entità capite che ne abbiamo di strada da fare grazie grazie Sergio allora io pregherei adesso i relatori i medici per favore di rispondere in maniera molto rapida è una tavola molto rapida quindi su un tema che riconosco essere molto molto ampio però proprio un taglio una battuta il vostro punto di vista che è molto importante parliamo di comunicazione medico persona evito accuratamente di parlare di paziente grazie lascerei la parola paziente a chi veramente patisce chi sta male ma non tutte le persone che vogliono un rapporto anche di consulenza con il medico quindi in questa mettendoci dentro anche la necessità di migliorare la competenza psicologica nella formazione del medico soprattutto quando parliamo e quando la responsabilità del medico ricorre in questo ambito molto delicato in cui le dinamiche interne il vissuto interno ovviamente può essere anche determinante nella prognosi della disarmonia e quindi comunicazione medico persona come potrà essere formato il nuovo medico indirizzato alla medicina della salute sotto questo aspetto Professor Palmieri vuole iniziare lei sarò anche qui molto telegrafico io credo che la vera espressione di empatia tra medico e paziente si realizzi attraverso una identificazione non emotiva ma umana del contatto di fronte al problema che il paziente presenta ecco in questo contesto io contraddico il corso di studi e la filosofia degli insegnamenti medici dove lo dicevamo anche ieri sera tra di noi non c'è spazio per introdurre l'elemento informativo psicologia tra il medico e il paziente ma se anche questo non è un insegnamento istituzionale deve comunque essere un insegnamento umano cioè uno fa il medico non per sfruttare la propria professione magari lo fa perché è un tecnocrate perché è un ottimo chirurgo della mano un ottimo trapiantatore però in realtà al di là di questo spazio tecnologico formativo ci deve essere questa maturazione questa maturazione dovete darla voi pazienti noi medici ma soprattutto voi perché la carica di rompente della persona che deve portare una testimonianza come farete oggi di guarigione è veramente la lezione divina che arriverà ad aprire queste menti dei medici che non sono tenebrate ma sono schermate sono diaframmate da un sistema di obiettività esame obiettivo anamnesi il medico filtra con dei quesiti e non percepisce al di là di questi contatti di questi rapporti tattili sensoriali visivi della multi imaging medico la persona che è di fronte ecco questo processo maturativo noi con medico cura te stesso l'abbiamo iniziato sei anni fa oggi è una onlus vogliamo accaparrare tutti i care givers come diceva il dottor Labella prima non solo i medici i psicologi i nutrizionisti i counselor tutti i farmacisti tutti quelli che avanzano proposte di riequilibrio ecco in questo rapporto umano io vedo bilateralmente paziente medico una grande forza di maturazione dei pazienti in generale che sono consapevoli di dare al medico una formazione umana in più ecco grazie allora al professor soresi però aggiungerei anche questo stimolo non ritiene che la comunicazione medico persona che fino adesso è sempre stata intesa come una comunicazione univoca cioè una cosa che parte dal medico e va al paziente ecco richiamando quello che sotto intendeva il professor Palmieri non crede che ci sia da migliorare la comunicazione non soltanto quella che va dal medico alla persona ma anche quella che dalla persona va al medico nel senso non soltanto di essere magari di non citare il dottor Google che magari talvolta fa innervosire i medici ma quello magari di aiutare il medico ad entrare nella sua stessa empatia manifestandogli i dettagli anche la persona si mette in un set quando si presenta al medico a questo proposito nel mio ultimo libro c'è proprio la testimonianza di una giornalista romana che avendo avuto un tumore al seno ed essendo stata accolta da un oncologo in maniera molto algida l'ha provocato in maniera molto pesante facendosi curare e alla fine assieme hanno fatto proprio un percorso che insegnava sia all'oncologo che alla giornalista a relazionarsi meglio ci sarà una testimonianza scritta nel libro l'altra molto bella sarà di un altro collega che ho stimolato nello scrivere la relazione medico persona medico paziente alla luce di tutte le novità della biologia i neuroni a specchio hanno sovvertito il concetto di empatia i neuroni a specchio sono dei neuroni che risuonano in relazione a ciò che mi è più affine per cui può essere che con quel medico io non vada d'accordo perché non risuono il momento in cui entro in uno studio e entro in una risonanza relazionale empatica vuol dire che ho attivato questo sistema i neuroni a specchio che attiva la risposta biologica quindi io insisto tutto ciò che la biologia ci sta dimostrando sta aprendo scenari totalmente diversi nella relazione della medicina la medicina va riscritta come dice Palmieri ma va affrontata in maniera culturale come fosse una volta perché vedete tante cose belle già Ippocrate diceva l'intestino è la chiave di tutto e beh oggi l'ho scoperto il microbiota dopo un po' di anni quindi vedete come è delle intuizioni camminare fa bene e ci credo camminare fa bene il mitocondio è felice se voi camminate quindi tutti questi percorsi intuitivi saggi eccetera oggi piano piano si stanno concretizzando in più si apre un altro scenario che la dottoressa oggi forse mette a fuoco che è lo scenario dell'energia della mente della relazione mente-corpo dicevo io i sera questo pensare che il cervello sia un organo primario è scorretto il cervello è secondario completamente al corpo se il corpo non si muove il cervello non funziona l'esempio più bello è questa seppia ascide che nasce con un cervello e un apparato locomotore qual è il suo obiettivo? raggiungere o un relitto marino o una roccia una volta che è raggiunto quello sapete cosa fa? si mangia il cervello perché è un dispendio energetico quindi la relazione mente-corpo è un tutt'uno che va gestito con intelligenza con cultura con amore con relazione studio migliore in assoluto nasce ad Howard nel 38 su studenti di Howard è 80 anni che è in atto questo studio che cosa ha dimostrato? che la vera grande longevità la qualità di vita è da cose data dalla relazione e si sta pronto poi il mondo vegetale Stefano Mancuso è un italiano che sta studiando la natura la natura si allea delle strategie sociali affascinanti perché le hanno? perché le piante non si muovono e quindi fra di loro collaborano per difendersi quindi vedete sono tanti stimoli per cui se il medico non si apre a queste novità veramente fa una brutta fine grazie 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 professor magari si mangerà il cervello no no aspetta aspetta Paola che voglio aggiungere qualcosa Paola Dallora che è sia medico che psichiatra e quindi diciamo è una come dice una porta USB tra una cosa e l'altra che significato ha comunicare che senso ha comunicare ad una persona che chiede l'aiuto del medico una prognosi in fausta ma guarda Sergio grazie alla domanda io vorrei rispondere con una un episodio che mi è stato raccontato e che esalta molto il problema della comunicazione che è fondamentale che stiamo sollevando perché perché mi ha molto colpito e riassume tanti aspetti allora ti rispondo con questo nanetto paziente uomo molto fine molto intelligente anche se molto segnato da una malattia potenzialmente mortale luogo della scena un luogo di eccellenza come oggi si dice di terapie oncologiche nel milanese persona che ha già subito un intervento chirurgico e che sa è una persona informata non è medico però informato di dello scenario che si può aprire il suo interlocutore cioè un collega lo lo visita lo informa ma soprattutto lo tocca nel luogo della precedente del precedente taglio chirurgico all'arto inferiore e con i polpastrelli questo mi è stato riferito nei dettagli da questa persona segue la scia della cicatrice e lo informa su dove molto probabilmente la recidiva ci sarà successivamente il tocco tenete conto che è stato semplicemente da parte del collega è stato semplicemente una rima cicatriziale ottimamente io l'avevo avuto anche se avevo dei colloqui però aveva voluto mostrarmela assolutamente ben guarita passati ormai mesi il gesto successivo molto interessante è stato che questo collega ha preso sapete quei fazzolettini disinfettanti e si è lavato le mani era ripeto un gesto non era una visita medica cioè era un gesto assolutamente un tocco allora tutto questo riassume tantissime cose riassume il fatto che la comunicazione può essere drammatica può essere veramente una profezia che poi si è avverata il paziente ha avuto una recidiva in quella sede la suggestionabilità anche di una persona con un alto livello culturale con un grado alto di informazione con un profondo lavoro su di sé la suggestionabilità può essere molto elevata perché è umano quando ti trovi in una condizione di pericolo regredire sul piano psichico e quindi vivere una condizione di fragilità in cui torniamo tutti piccolini e quindi teniamo tutti a idealizzare molto la persona che abbiamo davanti che può avere il potere taumaturgico di dirci dove ci riammaleremo però poi si disinfetta e questo è l'aspetto che ho trovato molto io non ero presente alla scena ma da come mi è stata raccontata era come se perché questo significa che c'è ancora questo problema di una paura della malattia e del suo contagio del tutto irrazionale il tumore non è la peste non è contagiosa non è la BDS che complica molto la comunicazione umana ritorno ai miei colleghi che mi hanno preceduto tra medico e paziente dunque una formazione psicologica è necessaria lo diciamo da tanto tempo ma è ancora evidentemente carente uno psicanalista inglese Michael Balint nel secolo scorso mi è nato un esperimento molto interessante che accunava i medici di base nei cosiddetti gruppi Balint a cui offriva la possibilità di lui la chiamava una modificazione parziale ma significativa della personalità del medico non significa i medici vanno in cura significa i medici sono invitati a riflettere su alcuni aspetti su alcune loro modalità di reagire umanamente con il loro bagaglio di esperienza di modo di essere alla sofferenza umana perché questa inevitabilmente destra angoscia inevitabilmente destra una immedesimazione un'identificazione allora ogni esperienza che siano i gruppi Balint che siano corsi di aggiornamento eccetera che rende più consapevoli di questi rischi può migliorare e trasformare una comunicazione tra medico e paziente in una comunicazione umana e non così pericolosa come l'esempio che vi ho voluto portare che non vuole assolutamente attingere al rischio di demonizzare la categoria medica i medici coraggiosamente si espongono continuamente alla sofferenza medica devono soltanto assumersi la responsabilità dei rischi che questo comporta e fare qualcosa grazie grazie Paola allora Sabine Eck la dottoressa Paola Dallora ha diciamo ha sottointeso un effetto noto ai medici e soprattutto agli psicologi e chi si occupa di di psiche cioè della tendenza alla realizzazione spontanea delle predizioni ecco vorrei introdurre con questo l'argomento effetto nocebo e quanto questo possa essere talvolta nella responsabilità di una scorretta comunicazione medico persona la comunicazione credo che abbia una chiave assolutamente principale perché noi in ogni situazione abbiamo la possibilità appunto di dialogare di relazionare che è sempre stato detto penso che il medico che esce da una formazione scientifica che diciamo insegna unicamente il concetto oggettività abbia paura del paziente in ultimo e si nasconde dietro l'oggettività quindi perché io per entrare in empatia col paziente io non sono medico sono un essere umano tutti conosciamo credo il simbolo del tau nel tau lo vediamo scritto senza usare la parola yin e yang cioè dentro ogni cosa c'è il suo opposto cioè il medico che è un po' dottore per il dottore e noi siamo un po' pazienti cioè nel senso ognuno ha dentro di sé l'altro e questa però si può raggiungere solo attraverso un dialogo e l'empatia e io vedo che la medicina che faccio oggi non la facevo vent'anni fa o trent'anni fa perché chiaro sono cambiato sono maturato almeno spero e oggi ho molto meno paura di dover rappresentare chissà che cosa dall'altra parte il medico ovviamente viene anche presentato soprattutto diciamo diciamo in televisione come colui che salva il paziente cioè noi siamo esseri umani i medici si ammalano non poco anche noi perché dico sempre se la medicina è perfetta saremo noi tutti a novant'anni in bicicletta a fischiare come esempio vivente della salute e quindi il dialogo è tutto e secondo me quello che serve sono seminari per solo medici quindi in una zona protetta che non con dei esperti che ci ci fanno capire che essere un essere umano davanti al paziente non è niente di grave di solito sono cose che vengono fuori con l'età per forza anche perché la vita insegna quindi la relazione è fondamentale e poi la terapia che viene fatta sicuramente trova un terreno molto più aperto qualsiasi terapia sia certo grazie grazie Sabine ecco allora Paolo Signore sì Paolo Signore Sergio Signori vuoi concludere dare una diciamo una chiosa a questa tavola rotonda sì grazie nel senso che è giusto sacrosanto occuparci della comunicazione medico-persona però c'è una cosa sulla quale io mi spolmono da 30 anni e non solo io ma non se ne comincia nemmeno a parlare in nessuna parte del mondo io comunico non solo quello che dico con le parole la scienza della comunicazione informa che se io vi comunico 100 il significato razionale di quello che vi dico è meno di 10 fino a 50 circa si arriva col tono della voce con le pause il resto 50% è ciò che sono e allora prima di contemporaneamente occuparci di cosa comunico ma io chi sono quindi sono 30 anni che io sostengo che medici infermieri psicologi terapeuti insegnanti giudici sacerdoti dovrebbero essere obbligati a fare un robusto lavoro su di sé perché io ho grazie siccome ho la laurea siccome ho la laurea o l'abilitazione o il diploma posso essere anaffettivo sadico feroce posso dire di tutto quello che voglio e di più ma ho la laurea e quindi tra l'altro c'è un'altra cosa perché noi pensiamo sempre a quello che diciamo e il significato adesso io codirigo ancora per poco una scuola che si chiama educazione al contatto di cui qui c'è una carissima nostra insegnante e abbiamo scoperto le ricerche di Hartmut Institute americano che da più di 20 anni studia cellule che abbiamo nel cuore che sono molto di più che quelle che abbiamo nel cervello con le quali noi ci influenziamo in positivo e in negativo quindi attorno a dire io comunico ciò che sono non solo ciò che ho studiato e che voglio dire ok e questo lo ritengo un punto fondamentale grazie 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 Sergio ringrazio i relatori di questo interessante dibattito